Forza! Forza! Circolare! Forza! Signora, la corsia preferenziale è per i mezzi pubblici non è che si chiama preferenziale perché la preferite! Chiama bella! Forza! Capo! O sei mafra e verde, ma che aspettate che sei maturo! Già, faccio proprio! Forza! Forza! Circolare! Forza! Circolare! Adesso... Adesso... No, 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 non ci sia... A voi ha capito che si calaccia ferma solamente! Ma che mi sa fai? Carciofalo! Ma che capi? Ti tengo la paletta a mano! E tengo questo mano sotto! Amici a fare il bagno! Maggio, stavate correndo? Noia! Ehi! Ma che stavo correndo? Forza! 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 2,5 kg di mostro! Bella e buona! Mentre siamo a 780 km all'aria! Bella e buona! Bella e buona! Nessuno l'ho aspettato! Ampannata a chiudere il freno! Quando hanno fatto il capello e grino! E che ne sai che era bello e grino? Tenevo aranciato a mano! Hai capito, fra? Ma che stai parlando con il frattato? Ma lo sai io chi sono? O chi è il pinguino! Io sono un poliziotto! Ebbene ma la canzino carabinire! Sennò che la fiamma mancava! Ma poi arriva l'accendino! A presto capite! Guardate i miei documenti! Favorite! Buon appetito! Arostivo Viglien! Eh? Arostivo Viglien! Arostivo Viglien! Qua non è tanto postivo Viglien! E' un gen che è complicato! Dove stavate andando? Bentornate in Italia! O che è arrivato in Italia? O che è la scuola? O che è la scuola? A chi sei ancora a scuola? Ah perché tu a chi sei ancora a scuola? E come fai a scuola? Stiamo sentendo! E come fai a scuola? E come fai a scuola? quando sto schiattato in coppa seggio afficcoso di me questo bello e buono tatore ma sei non mio si interrogato non è scostumato e sei campagna da cervellatore si sapeva campagna mi prendeva da parte e diceva signor tatore io avrei una mezza intenzione di interrogarla che capo tenito? e allora frate ti piace che ti racconti la menzogna? ti piace che ti racconti la fandonia? ti piace che ti racconti la palla? allora c'è una verità questo è interrogato perché è morto un nonno ma dai tu mi credi solo questo mese questo nonno è morto unici voto ovvero che l'uomo mi farnisce e mi soffre a me posso riuscire a mettere i mangani perché quando ho da niente nei pasquetti non ci fanno male ti fanno quelli pasquetti schiattati in terra e tu quando ha mangiato in mare e bello e buono i metto a fare una pizza talmente rosso ma talmente rosso che sotto tavola si avranno i pompieri ho paura che faremo cornicione una volta stiamo organizzando una pasquetta in 10 capi di Pompei e la pasquetta hanno certi mesi una coppietta e loro due romani perché subito mi guarda innamoratrice ora si è in grip vicino al mio orno la pasquetta e mi riccia se guardi ancora ragazza mia ti do una pizza frate pozzonega vedi che si fai pure passato non c'è pure un casatelo ma come state raccontando forza forza andate nei documenti forza buono c'è un golo buono ma che sono queste cose forza documenti vieni che se ho partito dei corsi di formazione va a diventare un tante di un uomo iscriviti scuola Dato Resposito siete del 75 sta scritto e allora sarà così Francesco Lecco sei pure tu del 75 sì siete tutti e due del 75 sì un'ottima annata scusate siete fratelli e allora siamo tre frate perché pure i motori nel 75 abbiamo capito forza venite con me in questura no io non posso venire in questura io faccio raccontare fa volo mezzo se no mezzo non si dorme e allora vieni tu forza sì e perché io voglio non discutere vota in mano manda il medico butta il mullico balli cì vai